Troppo buone le gotolette di finocchi? Croccantissime! Pulisci i finocchi, elimina le foglie esterne e poi taglia le a fettine sottili. Quando sono pronte mettili da parte. Prepara la panatura con il pangrattato, il formaggio grattugiato e il prezzemolo e un pizzico di sale. Poi farina i finocchi, passali nell'uovo e infine nella panatura. Falla aderire per bene e poi mettili su una teglia. Bagna con un filo d'olio e cuoci in forno fino a doratura. Ed eccoli qui croccanti fuori e morbidi all'interno. Per una versione facile e veloce puoi anche friggerli in padella. Il risultato sarà lo stesso. Buonissimi! Ciao! A presto! A presto è